La città lo sa, però la città deve sapere pure che poi aveva un accordo, questo accordo lo devono rispettare, in una maniera o nell'altra maniera lo devono rispettare. L'accordo è stato preso in prefettura, davanti al prefetto Lecci, noi abbiamo una legge che ci dice quello che è successo, quindi la città intera non può farsi trattare in questo modo, questo è tutto il prefetto. Ma manifestiamo in una maniera tale che non si parli solo di questa città, sempre di altre cose. E in modo che ci possano rispondere a qualcosa. Il messaggio è che chiunque può venire qui e fare terra bruciata, prenderci in giro, non è una cosa bella per una città... E infatti, i politici ora si devono mettere la testa apposta e dire diamo quello che dobbiamo dare a questa città. Questa storia, noi lo diciamo sempre, siccome l'accordo è stato fatto appunto in prefettura, noi lo tentiamo di dire a tutti come cittadini messinesi, che ognuno con le proprie responsabilità in proporzione, dobbiamo provare vergogna del fatto che vengano via. Adesso c'è un prefetto... Adesso speriamo di parlare... Non state facendo l'intervista, non state facendo l'intervista.